Qui stiamo parlando di un emendamento che favoriva sì il compagno del Ministro Guidi, ma favoriva ancora una volta le società che si occupano di trivellazioni petrolifere e c'era in questo emendamento scandaloso la firma del Ministro Borschi. E sarà un caso che il governo Renzi ha sabotato il referendum sulle trivelle il 17 aprile per proteggere le trivellazioni petrolifere? È tutto collegato, è un metodo di governo che abbiamo visto già nel caso Banca Etruria con la Boschi, vediamo nel caso Eni Guidi del suo compagno e quindi noi chiediamo che questo governo vada a casa. Questa è la volta decisiva in cui bisogna scegliere tra la poltrona e la coerenza. Noi presenteremo una mozione di sfiducia al Senato dove i numeri sono risicati e quindi ci sono probabilità di mandare a casa questo governo. Chiedo alla minoranza PD che ogni tanto fa capolino contro il governo Renzi facendo sembrare ai cittadini di essere l'opposizione del governo Renzi di votare la mozione di sfiducia e di mandare a casa.